Un po' questa, diciamo questa serie di incontri è proprio, come dire, concentrata sulla questione dei segni e dei sintomi intendendo per segno qualcosa che è rilevabile attraverso gli esami medici, clinici e come sintomo invece una situazione di malessere e di sofferenza che il soggetto dichiara di avere ma che non trovano riscontri nell'esame del stampo, ad esempio, piuttosto che nelle radiografie. Andrò un po' veloce perché purtroppo non abbiamo svolto la sessione di febbraio che prevedeva il poter parlare dell'insonia, della frigidità e impotenza e quindi dovremmo, come dire, parlare di questi due argomenti agganciandoli agli argomenti in agenda per stasera che è la claustrofobia e l'avorafobia e l'abuso di prodotti a alcol, eccetera. Come avete già potuto notare, sono tutte situazioni molto dolorose di sofferenza ma che non trovano riscontri negli esami, diciamo, medici e clinici a meno che nell'impotenza e frigidità non ci sia effettivamente qualcosa a livello dell'organismo che impedisce qualche situazione, magari qualche incidente traumatico che impedisca le cose. Quindi, affrontiamo subito la questione dell'insonia. Dicevo l'altra volta, proprio Papa Ratzinger aveva, come dire, denunciato che aveva sempre sofferto di insonia e vediamo che a volte le persone che non riescono a chiudere gli occhi magari perché vogliono sempre avere un po' tutto sotto controllo. Però andiamo con un po' di dire. L'insonia. Ognuno, diciamo, ha la sua insonnia. L'ha sviluppata in modo del tutto consono alla sua storia di vita e alle proprie frustrazioni incontrate nella ricerca della soddisfazione. Non escludo che un tipico atteggiamento provato da molti soggetti che caratterizza la vita infantile di molti di noi e che caratterizza appunto questo atteggiamento di avversità al sogno. Il dover andare a letto, a dormire, mentre i grandi sono ancora svegli. peggio essere obbligato a dormire nel pomeriggio. Molti ricordano il dispiacere vissuto negli asili. Ancora peggio essere addormentati, essersi addormentati durante un avvenimento importante che ci è poi stato raccontato al nostro risveglio. E allora perché dormire? Oggi, che finalmente dispongo io del mio tempo, di sonne e di veglia, perché mai dovrei andare a dormire? Anche se il mio razionale mi induce a pensare che sarebbe meglio, se non ho di meglio nella mia vita, potrei benissimo pensare che forse lo stare sveglio può preoccuparmi, può procurarmi un po' di piacere e un po' di rivalsta verso quando da piccolo mi costringevano a dormire. Naturalmente questo non è un pensiero cosciente, ecco, è un po' forse contraddittorio, forse assurdo, ma alcuni di noi preferirebbero anche pensare che in una situazione spiacevole e conflittuale, l'unica formazione regressiva che può procurarmi un po' di sollievo è proprio quella di stare sveglio. Certo, non è quello che vorrei, ma se quello che voglio qualche parte di me impedisce di averlo, cioè qualcosa si oppone al mio desiderio di realizzare, allora forse è preferibile avere una sorta di regressione e trovare della soddisfazione in qualcosa che non è poi così male, non così male come il prendere atto del non poter ottenere quello che si vuole. Sempre che ognuno trovi un po' di questo nella propria storia personale, nella sua esperienza sensibile, per altri, per altri sensi, può assumere questo sintomo, diciamo, ma sempre legato alla soggettività. Non dimentichiamo che vi sono molti mestieri che si svolgono di notte. Mi piacerebbe sapere, no? scoprire se i panettieri, ad esempio, i giornalisti e altri che magari svolgono la loro attività prevalentemente di notte, nel loro passato ecco questi avevano una qualsiasi forma di, hanno avuto una qualsiasi forma di costrizione al dormire, al sonno, e che quindi abbiano, naturalmente non coscientemente, ma sviluppato un po' questa attitudine, questa tendenza a stare svegli di notte mentre tutti gli altri dormono. Ecco, io per l'insonnia mi fermerei qui, anche perché il capitolo della frigidità e dell'impotenza è piuttosto... poi magari alla fine vediamo, segnatevi se c'è qualche domanda da fare nelle singole forme, diciamo così, sintomatiche, poi cercherò di rispondere. La frigidità e l'impotenza è una cosa molto così... naturalmente ho già detto prima che, come dire, a parte le questioni traumatiche che possono colpire i genitali e queste frigidità e queste impotenze sono qualcosa del, come dire, della sfera psicologica, ecco. E dobbiamo entrare, diciamo, nel tema della soddisfazione sessuale. non è facile descrivere tutto ciò che questo termine, no, la sessualità, il sessuale descrive. L'abitudine che io ho un po' preso, a volte così anche per provocare, è che il sesso non esiste. non esiste perché ne esistono due. Lì per lì, quando dico che il sesso non esiste, naturalmente nessuno mi dà ragione, ma immediatamente dopo, quando dico che sono due, allora si capisce, come dire, la veridicità di questo. Quindi la questione che ci riguarda, sappiamo proprio che Freud ha scoperto e elaborato l'evoluzione della sesso affettiva dell'umanità, sia del maschio che della femmina, insomma. e questa evoluzione, adesso non seguo, magari ve la dico un po' a braccio per essere più veloce, poi semmai vediamo di... segue naturalmente come dire, queste tre fasi che Freud ha indicato, che sono la fase orale, la fase anale e la fase, diciamo, genitale. Poi ci sarà un'altra ultima fase, la quarta pubblico matura che interviene poi a 14 anni, ma è meno, a 14, 15, insomma, poi ci sono le differenze individuali, però è meno significativa. Tutte queste tre fasi, cioè almeno le prime due, la fase orale che passa attraverso il fatto che ognuno di noi ha conosciuto e conosce il mondo attraverso la bocca, attraverso il mettersi le cose in bocca, a parte il fatto del, come dire, del succhiare il latte, no? Che è litale. Però si è visto che il bambino non è scemo anche quando gli si dà il succhiotto che non emette latte, però al bambino piace comunque, anzi è una situazione che lo calma e a volte lo induce al sonno. Ma che cos'è? Che dato che non c'è il latte, si capisce quando fa la poppata, quando mangia il latte e magari poi il bacino pieno, caldo, si addormenta, ma come mai poi si addormenta anche se gli diamo solo qualcosa da succhiare, anche se è appunto solo roma o solo plastica? Beh, perché abbiamo la mucosa, la mucosa labiale che scarica delle tensioni del bambino. Quindi il bambino attraverso la mucosa labiale si procura una soddisfazione, diciamo un detensionamento delle energie, delle tensioni. Quindi sappiamo che il bambino appunto molto piccolo mette tutte le cose in bocca, conosce un po' il mondo attraverso la bocca. Però c'è anche una sorta di, tra virgolette, piacere, di soddisfazione nell'usare la mucosa labiale e questo è il primo, diciamo, segno indice che Freud ha scoperto della evoluzione sesso-affettiva, nel senso che il primo piacere, la prima soddisfazione che, guarda caso, è innestata su una funzione vitale come quella del nutrimento. La seconda fase che è chiamata non solo anale, ma anche saldico anale, eccetera, ci dice che questa evoluzione delle dinamiche sessuali, ma anche effettive, si trasporta dalla mucosa labiale alla mucosa anale perché a un certo punto il bambino viene invitato a fare i propri bisogni nel vasino, nel water, nel momento in cui riesce ad avere, insomma, la capacità, l'autonomia del controllo sfinterico. Però sappiamo bene, magari, chi ha avuto dei figli e quanta difficoltà a volte si fa per convincerlo a fare le feci e a volte e a volte gli si promette ma le monti se le fa poi una volta che fa le feci nel vasino poi la mamma turandosi il naso la butta via e quindi rimane un po' colpito questo bambino dice ma come l'hai tanto voluta poi me la butti via. Comunque, per tornare invece alla nostra come dire soddisfazione nel nostro detenzionamento tutti noi magari ancora oggi sappiamo quanto sia piacevole il fatto che avendo bisogno di defecare magari non riusciamo ad avere un bagno nell'immediato e allora teniamo teniamo e poi a un certo punto quando finalmente riusciamo a sgravarci proviamo un certo sollieo un certo piacere anche nell'essersi sgravati e quindi il bambino secondo Freud sempre fa questo percorso di soddisfazione dalla mucosa labiale alla mucosa anale dopodiché si tratterà dell'ultimo passaggio si può trattare dell'ultimo passaggio che è quello che poi fisserà diciamo la libido questa energia sessuale e la soddisfazione negli organi genitali questo può avvenire semplicemente perché a un certo punto con il controllo degli sfinteri dell'uretra eccetera della pipì della popò al bambino verrà a mancare una cosa che fino a quel tempo lì è stata come dire una pratica quotidiana cioè per due tre volte al giorno lui veniva pulito dalla mamma il sederino e l'organo genitale veniva lavato veniva asciugato veniva imbortalcato veniva profumato e tutte queste attenzioni sui genitali a un certo punto quando imparerà il controllo sfinterico spariranno e quindi non avrà più questa piacevolezza della manipolazione diciamo dei genitali e naturalmente la cercherà magari da solo cercherà queste pratiche che si dicono autoconsolatorie dei bambini anche abbastanza piccoli di ritrovare un po' quell'affetto e quel sesso e quel piacere tutto sommato che passava da queste pratiche diciamo di pulizia allora detto tutto questo è chiaro che la delicatezza di questi passaggi non è come dire non è così scontato che tutto avvenga come dire nella massima semplicità nel massimo fluire sano della cosa perché a volte ci possono essere delle fissazioni ci possono essere degli incidenti ci possono essere delle situazioni che i genitori magari che a volte non stanno troppo bene trasmettono anche della sessofobia ai figli o trasmettono anche altre pratiche magari che non sono così come dire non aiutano questa evoluzione sessoffettiva quindi l'impotenza e adesso vado un po' alla conclusione adesso questo è un po' l'ho tirato dritto sulla parte diciamo teorica per capire l'impotenza è solo il nome chiediamo alle cose che potremmo fare ma che non facciamo potenzialmente faremo di tutto ma in pratica non operiamo nulla quindi l'impotenza è qualcosa della diciamo prepotenza chi non può e non vuole fare diventa facilmente prepotente vuole che gli altri facciano ciò che lui stesso non può fare e scatena la sua aggressività che nasce dalla frustrazione del non fare dobbiamo essere potenti attenzione qua cioè poter fare le cose uomini e donne di potere ecco se dicessi questa cosa in un altro contesto sarei molto frainteso ma qui posso permettermi cioè posso posso fare non devo e attenzione che c'è una differenza enorme ma il devo del comando ma io posso posso fare ecco il mio potere il potere su me stessa però attenzione e qui cito delle cose che magari alcuni di noi hanno hanno patito hanno sentito chi ti credi d'essere sei un incapace lo sapevo che lo rompevi parla quando sei interrogato non è una cosa che tu puoi fare sei solo un pasticcione incapace e altre altre fasi di questi innumerevoli come queste possono veramente indurre chiunque a smettere di prendere l'iniziativa men che meno se facesse e se fosse implicato il sesso perché nel sesso c'è anche la propria identità che è stata magari così malamente messa al margine messa 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 fuori messa all'anno allora dove la soddisfazione in un sintomo diciamo così inappagato certo nel non sbagliare certo nel non mettersi nel posto di poter essere giudicato offeso criticato e malmenato è chiaro se io non mi metto in quelle posizioni nessuno potrà dire che sbaglio quindi non faccio la prepotenza e da chi rinunciando a fare vuole almeno avere la soddisfazione di potersela prendere con chi opera con chi qualcosa fa anche se non è sempre anche se non è sempre perfetto e nel fare questo l'impotente restituisce agli altri ciò che hanno fatto lui quando era piccolo ferito ferisce per la frigidità possiamo dire dare più o meno la stessa cosa non la considerazione che se per l'impotente il desiderio è presente manifestato ma non agito per la frigida il desiderio stesso è fonte di dispiacere è bandito dalla sua diciamo dalla sua forte non è interessata non è stata desiderata e non desidera anche qui la prepotenza è anche della frigida e si manifesta per la più per lo più sui soggetti che qualche desiderio lo dichiarano beh non dimentichiamo la doppia morale per cui se un uomo si interessa al sesso è un Don Giovanni è un figo insomma mentre invece se è la donna che si interessa al sesso è una puttana cioè la doppia morale purtroppo prevale ancora oggi anche se si fa qualcosa per eliminarlo la prepotenza appunto è anche della frigida e si manifesta per lo più nei soggetti che qualche desiderio lo dichiarano qual è il vantaggio del sintomo di essere essere e rimanere un soggetto neutro non cercata per l'appartenenza ad un sesso ma in quanto soggetto ha diciamo assessuato cioè senza sesso innocente e immacolato appunto non desiderabile e non desiderabile abbiamo poi altro ancora come l'evidenza del non rapporto con l'altro sesso con il diverso da me ma in fin dei conti tutti argomenti che non mettono minimamente in gioco l'organicità diciamo di questo sintomo eh che a livelli appunto prettamente organico sono tutti sani non hanno la ben che minima differenza anatomica persone orgasmiche e potenti ma che invece non hanno rapporti sessuali che molte terapie concentrate sui genitali possono essere possono avere anche dei successi non è messo in discussione ma che i sintomi poi si trasferiscono magari su altri eh o su altro a volte proprio anche molto evidenti eh smascherato il sintomo smascherato il sintomo potremmo dire isterico o ossessivo non è ancora risolto il conflitto che ne ha fatto scaturire la sofferenza e quindi il soggetto sarà comunque esposto ad altri sintomi dovuti ad altre regressioni della libido regressione per in qualche modo trovare una soddisfazione in situazioni passate quindi siamo sempre eh a sostenere che è un approccio individuale soggettivo quello che può far nascere un cambiamento nel nel soggetto nell'individuo ricercando nella propria storia i momenti che hanno inibito il piacere e la soddisfazione sessuale e avere magari la possibilità in qualche modo di superare questi momenti antichi recuperando come dire la possibilità il potere decidere soggettivamente della mia sessualità e questo va bene andiamo un po' veloci perché la claustrofobia e l'agorafobia adesso abbiamo un po' se non so bene che ore sono che ore sono vabbè ma 21 e 35 non è tanto tardi abbiamo del tempo ancora claustrofobia e l'agorafobia sono queste robe qui siamo di nuovo lì la fobia degli spazi gli spazi aperti e degli spazi chiudi la topofobia che non è la fobia dei topi la toponomastica insomma quindi la fobia dei luoghi che è specifica per ogni soggetto sebbene qualche volta è usato per definire la paura delle strade ecco stasera invece lo usiamo per definire generalmente la claustrofobia e l'agorafobia ed è proprio dell'aspetto topologico della psiche che vogliamo un po' parlare la topica che significa la teoria dei luoghi in psicanalisi si riferisce alla teoria o punto di vista che supporta una differenziazione dell'apparato psichico in una sorta in un certo numero diciamo di sistemi dati dotati di carattere e di funzionalità diverse e disposti in una certa ordine gli uni rispetto agli altri il che permette di considerare metaforicamente come luoghi psichici di cui si può dare una raffigurazione spaziale questa definizione del vecchio la planche con talisca insomma due ma perché queste topiche la prima topica freudiana era il conscio l'inconscio il preconscio la seconda topica che sono la divisione di queste questi spazi psichici era l'es l'io il superio poi abbiamo anche delle topiche lacaniane dove la lettura lì è nell'immaginario nel reale nel simbolico sono tutte funzioni psichiche che lavorano in sincronicità ovviamente e che determinano però delle azioni magari specifiche che il nostro pensiero il nostro nostra mente produce fa la prima costituzione topica appunto freudiana distingue l'apparato psichico ve l'ho detto di inconscio e preconscio e questa prima topica la troviamo descritta nel testo dell'interpretazione dei sogni che risale al 1900 però volevo andare poi c'è l'io il superio e es ma non è tanto mia intenzione appunto visitare questi questi luoghi ecco ma è bene rilevare che queste particolari funzioni a sé stanti e diverse tra di loro non sono sovrapponibili cioè diciamo questi sistemi dell'uno e dell'altro anche i primi due di Freud del conscio e conscio e l'ese non sono sovrapponibili ma sono è qualcosa che ci permette di capire una questione fondamentale del come dire il primo scibolette diceva una mia collega che ha scritto il primo scibolette della psicanalisi cioè l'esistenza dell'inconscio questo passo è un passo importante per ognuno di noi perché si comprende si capisce bene come mai non siamo padroni in casa nostra come mai non riusciamo a essere tutti ricchi felici e sani se bastasse la volontà purtroppo non è così purtroppo c'è qualcosa dentro di noi che è più forte delle nostre intenzioni e della nostra volontà e ci mette a volte i bastoni fra le ruote nel realizzare ciò che noi desideriamo quindi la questione appunto delle fobie che un po' si generano ma adesso questa sera siamo in queste due fobie particolari che vorrei andare però saltaveccando un po' tutta la questione teorica che è molto che è molto importante ma magari vedremo se è necessario attraverso le domande magari potrò fare degli approfondimenti ma appunto sulla base di quanto si è detto potremo concludere in questo modo abbiamo due gruppi di fobie tipiche derivate dall'ansietà cronica e dalla tendenza agli accessi di vertigine vertigine cioè vuol dire angoscia il primo relativa alla minacce fisiologiche in genere le altre relative alla locomozione al primo appartengono le fobie qui ritorno abbiamo fatto il corso sulle fobie l'anno scorso ma ritorno un attimo la fobia del serpente la fobia dei temporali dell'oscurità degli insetti eccetera nonché l'iperscrupolosità morale e le forme della mania del dubbio in questi casi l'angoscia viene utilizzata per rafforzare la ripugnanza presente in tutti i soggetti normalmente però la fobia a gente in modo come diciamo ossessivo si forma a partire dal ricordo di un'esperienza durante la quale l'angoscia ebbe modo di manifestarsi ad esempio dopo che una temporale abbia sorpreso il soggetto all'aperto senza protezione oppure il secondo gruppo abbiamo che comprende l'agorafobia e le sue varianti che ha appunto a che fare con la locomozione la vertigine che sovente precede questi sintomi non è indispensabile per diciamo l'innestarsi l'innestarsi del sintomo ma appunto sovente il senso di vertigine senza angoscia accompagna la locomozione e fino a un certo punto la rende possibile se al contrario la vertigine è accompagnata d'angoscia la locomozione in certe situazioni camminare per strade strette o piazza aperte non è più possibile il meccanismo di trasposizione dell'affetto vale per entrambe le specie di fobie i motivi dell'insorgere della nevrosi da goscia sono da Freud divisi per quanto riguarda il sesso femminile e quello maschile lui fa ancora questa distinzione oggi ebbene ci sono molti tentativi di non distinguere più i sessi bisogna fare attenzione su queste i sessi non può non può essere uno nel sesso non è uno sono due che si voglia uniformare tutto allora vediamo per le donne i motivi sono da ricercarsi motivi di questi sintomi in questa in questi casi angoscia lui la chiama angoscia virginale o attinente al primo approccio le questioni sessuali angoscia delle giovani spose angoscia derivata dal marito eiaculatore precoce o poco virile angoscia derivante da marito che pratica il coito interrotto angoscia delle vedove e delle donne deliberatamente astinenti come angoscia della menopausa e questo è un po' quello che determinerebbe no cioè la causa è comunque una causa di origine sessuale ma l'angoscia che ne deriva poi si come dire si tramunta in fobia locomotoria claustofobia agorafobia per gli uomini i motivi sono da ricercarsi in questi casi nella deliberata astinenza l'angoscia dall'eccitamento frustrato l'angoscia da come da coito interrotto anche per loro angoscia da senilità vi sono poi due cause che riguardano due i sessi e sono soggetti incapaci di abbandonare la soddisfazione derivata dalla masturbazione per approdare a quella del rapporto con l'altro ci sono delle persone che restano fissate diciamo all'auto all'auto erotismo e non accedono al rapporto con l'altro ecco proprio per approdare poi a quella del rapporto non vogliono arrivare l'astinenza da detta soddisfazione condurrebbe alla nevrosi d'angoscia e infine anche una diciamo emergenza dovuta a tutt'altri motivi e cioè il sovraffaticamento un grosso sforzo dopo veglia notturne per assistenza di infermi o dopo malattie di una certa entità ecco tutto questo porta poi un'astinenza anche magari non volontaria non voluta ma che potrebbe essere la causa della nevrosi d'angoscia e abbiamo detto che le nevrosi d'angoscia hanno tutti una essiologia sessuale come vedete non tutto è solo sesso anche se a dire il vero è l'affaticamento che ci porta dritti dritti all'astinenza per cui vabbè anche quello potrebbe essere infine i sintomi d'angoscia le fobie per intenderci derivano dalle fantasie dalle fantasie da un pensiero non è una cosa organica non c'è un enzima non c'è la formazione delle fantasie avviene come dire perfusione distorsione di tutto quanto il soggetto può aver elaborato nel corso della sua infanzia e anche oltre tengono conto delle diciamo inclinazioni della storia individuale un frammento di una cosa sentita da dire dalla madre piuttosto che da un altro adulto il combinarsi il falsificarsi di un ricordo con un altro cronologicamente magari incongruente in questo intreccio da connessione la fantasia aumenta come credenza ecco al punto di minacciare e forzare l'ingresso nella coscienza e questo poi produce in qualche modo che la rimozione intervenga a difesa di quest'ultima e il sintomo è generato attraverso l'impetuoso riflusso della fantasia rimossa questo forse è un po' complesso nel senso che la questione di questa ideazione di questo immaginario che può disturbarmi perché potrebbe veramente mettere in luce qualcosa di me che non è stato o che è stato ma che io ho fatica a vedere allora rimuovo lo dimentico diciamo così e da questa dimenticanza da questa rimozione sorgono poi dei sintomi il riflusso della fantasia rimossa gli spostamenti che sono accorgimenti psichici per mantenere nascosto il vero conflitto avvengono per associazione nell'isteria per somiglianza concettuale nella nevrosi ossessiva e per causalità nella diciamo nella paranoia qui sono un po' delle distinzioni che ci vuole un po' un parato un palato psicanalitico adesso non mi addentro tornando veramente in conclusione alla nevrosi d'angoscia che danno poi addito alla claustofobia e all'agrofobia la fantasia in gioco nell'agorafobia per qualche soggetto può dipendere proprio da fantasie di prostituzione che si riconduce al temi familiari cioè se ne è parlato in famiglia pertanto una donna che non vuole uscire da sola afferma quindi l'infedeltà in qualche modo della madre cioè la questione è che la donna che esce da sola potrebbe come dire avere delle storie sessuali mentre invece quella che esce accompagnata si mette a riparo da queste storie sessuali quindi nella claustrofobia all'opposto ma non diverso si affermerebbe come dire il suicidio ma mi sono sepolta nella famiglia per tutta la vita cioè in qualche modo non ho assolutamente voglia di uscire non sono certo ecco risposte universali ma di un preciso soggetto che abbia in sé provato queste esperienze familiari trasmesse trasversalmente nel corso della sua vita anche qui immaginatevi un attimo le frasi di una famiglia sessofobica ma quella donna va sempre a spasso da sola va sempre in giro da sola e quindi insomma non è non è non è cosa come si dice l'assunzione da parte del soggetto diciamo di questi romanzi tra virgolette familiari sono esperienza di tutti di tutti i soggetti che vi abbiano pensato qualche volta nella vita i sintomi le fobie pescano sovente in questo in questo mare pescano nel mare della come dire nel nostro romanzo familiare ecco quindi mi accingerei anche se so che corro un pochino che ore sono sì manca dieci minuti vediamo se riusciamo poi vi do la parola a approcciare questo abuso di prodotti tabagismo che mi riguarda l'alcolismo e altre droghe eccetera eccetera allora facciamo subito una formazione un'affermazione il latino il latino abusum ha come principale significato usare pienamente completamente sino in fondo usare pienamente completamente sino in fondo poi anche quella di usare malamente ma un po' come dire sciupare ecco certamente l'abuso in sé e per sé diciamo in sé e per sé non esiste lo diciamo non certo per fare apologia dei prodotti tossici alcol tabacchi ceta droga in genere ma perché la stessa medicina sa che per ogni soggetto anche solo per il peso corporeo che porta ha una limite diverso da tutti gli altri questo cosa vuol dire che a volte un litro di vino a certe persone non fa male ad altre bellissimo è sempre un litro di vino ma dipende un po' dal peso corporeo di chi lo beve quindi chi è che sta abusandoli è difficile no quindi cominciamo a fare l'esempio sì vabbè l'alcol dice che si può bere smaltire nelle 24 ore un decilitro di vino a 12 gradi per ogni 10 chili di peso quindi un soggetto che pesa diciamo 60 chili può bere tranquillamente più di mezzo litro di vino senza conseguenze alcune per un soggetto che pesa 120 chili anche molto più di un litro mentre per il soggetto di 50 chili già mezzo litro sarebbe di troppo sempre nelle 24 ore tutto questo comunque non esiste un abuso generale ma tarato da soggetto soggetto ancora un'osservazione per così dire tra virgolette scientifica le anestesie quelle del dentista ad esempio sfuggono anche alla considerazione fatte prima cioè ogni 10 chili eccetera stranamente ogni soggetto ha una sua dose particolare di anestetico commisurata non solo le sue terminazioni nervose ma anche soprattutto al suo stato emotivo ancora di più è detto che non esiste un abuso generale ma che questo deve sempre essere rapportato al soggetto quindi a maggior ragione è il soggetto stesso a dichiarare o abusato di e sto male ancora una volta dimostrazione che l'autodiagnosi è l'unica come dire via corretta per intervenire e cioè quando il soggetto stesso decide di avere un sintomo da prendere in cura cioè la prima diagnosi la facciamo sempre noi quando ci svegliamo un mattino c'è sto male c'è un mal di schiena c'è un mal lombo sciatalgia vado dal medico oppure c'è un raffreddore c'è il coso prendo un aspirina ecco è sempre il soggetto che decide va bene l'abuso esiste solo se denunciato dal soggetto stesso ma direte voi quei soggetti che nemmeno ciucchi persi ammettono di aver bevuto avete ragione da questo punto di vista c'è le cose non sono così semplici cioè bisogna lavorare un po' ecco la premessa da fare come già abbastanza sottolineato quando parliamo del bambino del neonato all'interno della spiegazione dello sviluppo delle dinamiche sessoaffettive che abbiamo fatto prima abbiamo affermato che nella suzione del latte non c'era solo il piacere del pancino pieno ma anche il detensionamento attraverso la fosa labiale di energie libidiche vale a dire che il piacere al bimbo non è dato solo dal latte prodotto ma anche dall'attività delle labbra tanto è vero che il neonato è addormentato si addormenta queste cose le abbiamo dette e le dice allora questo rimanda proprio al poter avviare la nostra premessa cioè ma cosa c'è ma cosa c'è di buono nel fumo cioè questo amaro questa fuligine questa roba che ti entra in bocca oppure l'altro che ti brucia le vene che brucia la lingua possibile per non parlare di altre droghe devi bucarti devi cioè allora da dove arriva il piacere dove 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 è chiaro che tutto questo concerne sempre la questione delle cose brutte diciamo la psicoanalisi come pratica pratica di parola se preferite come cura con le parole come ebbe a dire appunto il dover parlare il dover spiegare il dover dire le droghe c'è un fatto diciamo storico che riguarda la psicoanalisi a tempi addirittura antecedenti la nascita della psicoanalisi vi leggo un attimino questa citazione questa ve la devo leggere però credo che siamo andati troppo in là non posso trattenere un'osservazione molto pertinente la più adatta a far crollare la terribilità la terribilità che circonda queste cose dette terzo flagello del genere umano come Ertenmer ha voluto chiamare piuttosto pateticamente la focaiva infatti tutte le relazioni sulla cocainomania e sul decadimento da cocaina si riferiscono a morfinomani a persone che erano già state preda di quel demone e in cui la forza di volontà indebolita e il bisogno di stimoli avrebbero condotto l'abuso di qualsiasi stimolante loro offerto come di fatto è stato nel nostro ambito non ci sono altre vittime vere e proprie vittime della cocaina ho raccolto varie esperienze relative a un uso prolungato di cocaina da parte di persone non affette da morfinismo e io stesso ho provato il farmaco per mesi senza avvertire sperimentare senza avvertire sperimentare qualcosa che assomigli allo stato di dipendenza dalla morfoina o alla voglia di un ulteriore consumo di cocaina anzi più spesso di quanto non desiderassi interveniva un'avversione per il farmaco che a sua volta influiva sulla mia disposizione di servirmene di farne uso ecco questo perché questo per cosa dire in sostanza sull'abuso che sappiamo benissimo oramai questi ultimi anni che gli stessi effetti della dipendenza da alcol da prodotti usiamo averli nel nel gioco d'azzardo nel negli acquisti coatti nel nell'uso come dire dipendente dell'erotismo della pornografia dell'uso dipendente del computer cioè tutte cose che danno gli stessi sintomi e la stessa gravità dell'assunzione della cocaina dell'alcol o comunque del tabacco senza che ci sia prodotto la scoperta degli ultimi tempi e questa che noi possiamo sviluppare delle dipendenze che sono assolutamente psicologiche la dipendenza al gioco d'azzardo io non assumo niente non metto nel mio corpo niente pure ci sente che che per il sesso per per l'erotismo non può fare a meno di andare con la prostitute di giocarsi tutto lo stipendio quindi è lì anche non c'è assunzione di prodotti ecco cosa voleva dirci Freud e Violetto che in fondo se non c'è una diciamo una tendenza psichica alla dipendenza io posso anche bere ma non diventare alcolista posso anche fare uso al limite di alcune droghe vuoi anche per questioni mediche per questioni di cure di malattie ma se non c'è la questione della dipendenza psichica io non diventerò mai un dipendente mentre invece sarà facilissimo che io dipenda da tantissime cose non solo dai prodotti se avrò quella cosa se avrò questa dipendenza ma ecco che qui dobbiamo intervenire un attimo con la nostra diciamo esperienza con la con la nostra pratica sul campo di questi settori tutte le dipendenze possiamo dirlo possiamo fermarlo sono dipendenze affettive ogni dipendenza ha alla base questa malaugurata malaugurato desiderio di affetto di amore tra virgolette di fusionalità con l'altro di quant'altro insomma si può mettere lì quindi ogni tipo di dipendenza ha un po' questa quindi vado proprio un po' a concludere ne avrei ancora per due o tre pagine più ore sono ma insomma tiro tiro corto vediamo cosa le premesse le premesse che spostano l'attenzione dal mero organismo dal mero contenuto materiale del prodotto che si consuma l'altro in sé e per sé nel fumo appunto c'è il sapore amaro foligine eccetera nell'alcol queste cose le abbiamo dette ma questo piacere può essere in qualche modo un piacere organico no è un piacere psicologico dove magari nel ragazzino ma anche nella persona il fumo conferisce qualcosa della sicurezza di sé qualcosa dell'identità qualcosa dell'adultità ecco anche il bere no questi gruppi che bevono per in qualche modo darsi anche lì qui nei paesi poi abbastanza consuetudine al sabato e gli amici lo sballo del sabato eccetera che è come dire un rito che si celebra tutti in compagnia perché in qualche modo ci si riconosca ci si dia un'identità quindi il piacere comunque non è un piacere organico ma è un piacere psicologico e quindi qualcosa che ha a che vedere con poi mi direte voi però ci sono delle sostanze ci sono delle droghe che purtroppo portano anche alla all'estinzione del soggetto quindi questa soluzione non è il prodotto ma è la funzione pulsionale che essa simbolicamente soddisfa è un modo sintomatico fittizio e questo va preso con cura perché appunto vi dicevo prima sappiamo che a volte addirittura la pulsione può prendere sopravvento su eros sulla vita e può indicare appunto nella morte la soluzione finale all'insoddisfazione del soggetto come dire alla delusione del non trovare l'amore del non trovare l'affetto del non trovare quella idealizzazione attenzione che poi non esiste quello che sta cercando questa persona ma è stato idealizzato l'amore che sta cercando quindi non potrà trovarlo e allora attenzione che a volte pur di non vivere in questa mancanza si preferisce la morte e quindi questo è veramente qualcosa che è possibile evitare è possibile evitare non tanto ormai sappiamo che insomma le cure organiche le cure mediche non danno grossi risultati proprio perché l'eziologia cioè la causa scatenante non è organica non fa parte ma è una questione psicologica una questione affettiva una questione da ricercarsi nell'immaginario del soggetto bene io mi fermerei un attimino qui stasera ho fatto proprio una galoppata poi avremo la prossima volta la nausea la bulimia altri altri aspetti che magari poi Angela ci dirà quando saranno le cose però adesso mi taccio un attimino in attesa che se c'è qualche domanda possiate farmela grazie la prossima volta il 29 marzo ah 2 in marzo e c'hai anche i sintomi come i sintomi anoressia bulimia gioco coatto questo ne hai già parlato però un po' beh il gioco coatto si ne ho parlato per dire che comunque non c'è una però nello specifico magari lo riprenderemo perché è un problema attuale veramente molto molto sentito quello del gioco coatto perché molte persone si rovinano si rovinano le macchinette si rovinano i grattevinci rovinano nel senso che si vanno a giocare tutto lo stipendio la famiglia rimane poi non hanno i soldi per pagare l'affitto eccetera è veramente una cosa adesso hanno qualche regione qualche comune ha deciso di mettere qualche legge di tenere chiuse le macchinette al mattino se non altro per non indurre magari anche i giovani a non andare a scuola per andare a giocare le macchinette cose di questo genere vabbè no aspettiamo le domande per non rimanere in silenzio una cosettina molto semplice hai cominciato con l'insonnia e forse bisognava finire con l'insonnia perché sicuramente o lo faccio come domanda o come osservazione il problema dell'insonnia si riflette su tutti gli altri problemi cioè è una causa collaterale forse anche fondamentale di tutte e tante altre cose che noi accudiamo poi successivamente non da solo ma è una causa importante anche per tutta questa è un'osservazione ma che poi la risposta se effettivamente c'è un connesso molto stretto tra insonnia ed altri problemi come le fobie o le dipendenze o la pregidità o altre cose l'impotenza altre cose allora poi aggiungo un'altra osservazione un corpo umano naturalmente se fosse potesse dire secondo natura è un corpo equilibrato sereno non ha bisogno di nulla che le cose non vengono dal nostro interno ma sono causate da fattori esterni che possono introdurre altri problemi escludo l'unica cosa che mi sento di escludere la necessità di affetto nella prima infanzia e tutto il resto non è più dipendente dalla nostra natura ma da fattori esterni grazie sì grazie che mi permetti un po' di dire che ovviamente direi quasi tutti i sintomi cioè questo stato che non è come dire non è rilevabile attraverso gli esami medici alla lunga produce dei disastri organici veramente non da poco cioè appunto l'abuso di sostanze porta poi la cirosi epatica porta poi gli enfisemi eccetera cioè anche l'insonnia come giustamente ringrazio Giuseppe anche uno che non dorme due tre notti poi abbiamo delle vediamo le balocchette abbiamo dei momenti insomma veramente la stanchezza si riflette sull'organismo attenzione però a non cadere un po' nella trappola di curare questi segni e basta cioè derivati però dai sintomi quindi vale a dire che finché metto la pomata sulle pustole le pustole continueranno a esserci devo decidermi di curare il fegato allora voglio dire attenzione non è che devo curare la come dire la debilitazione che deriva dall'insonnia magari prendendo vitamine o prendendo dei sonniferi eccetera devo andare a eliminare le cause dell'insonnia così come tutto il resto no? caustofobia avorafobia o comunque anche l'abuso dei prodotti sulla seconda considerazione di Joseph non ho capito molto bene va bene l'affetto l'ho capito ma le questioni che arrivano dall'esterno cioè possono essere questioni come dire che riguardano ogni sociale che chiede i nostri sociali comunque l'organizzazione sociale chiede all'individuo di essere di fare delle cose no? indipendentemente dalla dalla sua come dire dal suo desiderio dalla sua volontà no corrego corrego Giovanni no volevo dire questo il corpo umano come è dotato come è voluto nella storia dell'evoluzione è arrivato siamo quasi perfetti se fossimo indipendenti da altre cause esterne che non avremmo né desideri né abusi né altri problemi tutti gli altri problemi derivano da incidenti esterni a noi stessi non sono intrinsechi ma estrinse che vengono solo dalla fuori non dalla società ma qualsiasi evento esterno dalla madre amici parenti eccetera possono creare problemi che non dipendono da noi ecco grazie sempre il bambino nasce sano e poi in qualche modo viene ammalato in primis dalle conoscenze dalla scienza eccetera e poi più tardi anche dal sociale dai genitori no no adesso ho capito bene allora c'è qualche altra domanda qualche altra considerazione posso dire mi sembra che in tutto questo abbiamo un bisogno estremo di affettività da qualsiasi parte non siamo disponibili a dare questa affettività perché quasi ci bisogna sentiamoci sentiamo di opprimere l'altro magari invece una cosa sarebbe importante essere liberi di esprimere queste affettività di dirlo sempre io mi permetto nel mio piccolo come nonna di dire non so le mamme ma ditelo ai bambini che li volete bene perché è vero che io penso il mio figlio mi vuole bene sa che io li voglio bene ma se non glielo dici magari non ci arriva ecco lo sa ma non diteglielo chiedo scusa questa è un po' una mia abitudine no grazie Anita certo una questione sì che anche qui a volte bisogna sottolineare il fatto che ti tratto bene ti voglio bene nel modo che abbiamo di trattare l'altro che passa un po' l'affettività quindi mi tratti bene mi vuoi bene mi tratti male mi vuoi male ora magari è possibile che con la stessa persona durante la quotidianità si possa passare da momenti in cui ci trattiamo bene a momenti in cui magari per qualsiasi fattore di nervosismo di frustrazione eccetera ci possiamo anche trattare male e quindi sì diciamo ti voglio bene però a volte diciamo anche mi è dispiaciuto quello che hai fatto non mi ha fatto piacere quello che hai detto insomma anche queste cose qui a volte possono aiutare a non accumulare magari dei rancori e dei e delle vendicatività ecco no quindi sì diciamo magari anche con i fatti trattando bene trattandoci bene però a volte magari anche sottolineando che non ci hai trattato cioè in quel momento lì non mi sono sentito trattato bene ecco c'è un po' questo stravaso di amore insomma i nipoti poi sono terribili dei datori di lavoro i nipoti incredibili un po'